Sindaco si parla molto di nomi, di cordate, Filippo Di Antonio, Antonio Mergiotti, insomma c'è interesse verso il bando pubblico per individuare un nuovo progetto per il Teramo. Di concreto per adesso cosa c'è? L'interesse c'è, devo dire anche da più parti, però come giustamente chiede lei dall'interesse che comunque è apprezzato da parte mia e ovviamente da parte di tutta la città perché c'è una volontà di avvicinarsi al Teramo e a Teramo adesso dobbiamo passare, questo vale per tutti ovviamente, dall'interesse alla proposta concreta. Quindi questa è la settimana che ci avvicina al 10 agosto e anche la settimana in cui sapremo quale sarà la volontà ufficiale da parte della società in merito all'eventuale ricorso al Consiglio di Stato, però come ho detto più volte si tratta di due percorsi distinti, quindi attendiamo le proposte concrete e effettive sulla base delle indicazioni previste dal bando. E con il ricorso al Consiglio di Stato la data si sposta un po' più in avanti se dovesse essere fissata l'udienza come il Campobasso al 25 agosto, lei pensa che sia possibile una proroga del bando magari sull'indicazione della FIGC? Ma al momento non c'è nessuna indicazione in tal senso, né volontà da parte mia e dell'amministrazione. Il fattore tempo, l'ho detto fin dall'inizio, è decisivo, è fondamentale, quindi cerchiamo di fare prima possibile. E' chiaro, vediamo anche quale sarà, se ci sarà il ricorso, quale sarà l'esito del ricorso in sede cautelare e ovviamente questa è una vicenda che dobbiamo monitorare ad oras, giorno per giorno, anzi ora per ora, quindi al momento questa è la situazione.